Io sono Roberto, shift manager del reparto montaggio da 16 anni. Noi abbiamo come obiettivo la qualità premium, per questo prima di tutto puntiamo sull'innovazione. Siamo partiti dalla singola postazione di lavoro e abbiamo realizzato un processo produttivo con i migliori standard ergonomici. Il risultato è una linea di montaggio costruita sulle persone e non viceversa. La cosa che più mi rappresenta? Essere agonista dentro. Mi piace una sana competizione. La preparazione è molto importante, è fondamentale. Ci vogliono ore e ore di training e un programma di miglioramento personalizzato e continuo. Perché senza una preparazione adeguata, certi risultati sarebbero semplicemente impensabili. Mi piace essere preparato, sicuro di quello che faccio. E' bello poter dire ogni giorno, si comincia, forza! L'innovazione tecnologica oggi permette di adattare le macchine al tuo fisico e alle tue esigenze. Lo scambio delle informazioni e delle esperienze ti fa crescere tanto. A volte il lavoro è molto duro, ma in fondo è una sfida. Più la sfida è dura e più la soddisfazione è grande. Non avrai mai pensato di poter migliorare così tanto. E' proprio una soddisfazione vedere che puoi fare sempre meglio e che le tue capacità possono portarti lontano. Ci sono sempre nuove gare, nuovi percorsi e nuove competizioni. A me piace così.